I gestori dei locali di Piazza Muzzi a Pescara si sentono maggiormente penalizzati rispetto ai colleghi delle altre zone della città come il centro storico dove gli orari di chiusura dal giovedì alla domenica, il venerdì e il sabato sono più flessibili. Ragion per cui una quarantina di esercenti ha presentato un ricorso al TAR corredato da una richiesta di risarcimento d'anni. Ricordiamo gli orari, ristoranti e pizzerie di Piazza Muzzi e Vie Limitrofe restano aperti fino a mezzanotte da domenica a giovedì e fino a 1.30 il venerdì e il sabato. Nelle altre zone la chiusura dei locali è fissata a 1.30 tutte le sere. Orari più morbidi per le discoteche e i locali che garantiscono intrattenimento danzante. Sono aperti fino alle 4 il sabato e un'altra sera a settimana che va comunicata al comune almeno 48 ore prima e fino alle 2 le altre sere. In particolare nel ricorso si chiede al TAR di pronunciarsi sia sulla legittimità delle ordinanze sindacali reiterate e sia in merito al risarcimento dei danni subiti. La prossima settimana, in occasione delle festività natalizie, verrà emanata una nuova ordinanza con orari più flessibili, rassicura l'amministrazione. Intanto le forze dell'ordine proseguono i controlli per la verifica del possesso del Green Pass. È stato sanzionato il gestore di un esercizio pubblico di Pescara per inosservanza delle disposizioni anti-covid in quanto trovato all'interno del locale senza mascherina. Inoltre la scorsa notte sono state sanzionate due persone, una per possesso di certificazione verde scaduta e l'altra per essersi rifiutata di esibire la stessa certificazione.